Una sera d'evento per celebrare i 50 anni di carriere e di attività di Gerardo Sacco, raccontati nel libro scritto da Francesco Costner, sono nessuno. Lo splendido salone di Palazzo Meduri a Gioisa Ionica ha accolto ieri le creazioni del maestro Orafo Crotonese in un'iniziativa promossa dal club UNESCO e presentata da Luana Parisi. Qualche chicca stasera dovuta al territorio, ci sono oltre gli argenti della cultura contadina e ci sono anche alcune creazioni ispirate alle ceramiche di Seminara, alla Cattolica di Stilo, alla Croce di Polsi, insomma le pine che se lo cresse, insomma abbiamo tante cose in questo territorio meravigliose che possiamo raccontare. La musica del soprano Eleonora Pisano ha accompagnato la sfilata delle modelle adornate dai gioielli dell'ultima collezione dell'Orafo delle dive, famosi in tutto il mondo ma da sempre legato al territorio. Io ho voluto mettere in risalto la fede, la creatività, la sacralità e l'arte praticamente. Questa croce l'hanno trovato veramente di inusitata bellezza.